ciao dolcette benvenute in questo nuovo evento speciale qui su dolce flirt perché è la festa della musica e quindi per l'occasione hanno appunto creato un evento qui c'è la zietta super bella con un abito meraviglioso vediamo un po quello che ci dicono a tesoro eccoti sto andando al mio corso di cia 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 da quando ho sentito parlare della festa da ballo al così bir ripasso un po i miei classici ieri la samba domani lo swing sono impaziente di vederti sulla pista da ballo sono sicura che sarai bellissima stellina mia questo evento accessibile unicamente subito all'università ok quindi direi di cominciare l'avventura subito ok prendiamo e va e vediamo un com'è questo evento ok eccoci qui allora bisogna parlare con alexi va bene per la festa della musica clementina ha deciso di organizzare una festa da ballo al così bir per fortuna quella sera non sono di turno ma la cosa più importante è che sono stata invitata in realtà non so ancora se ci andrò tra la ricerca di una tenuta e soprattutto imparare passe di danza questo appuntamento è davvero troppo stressante allora hai deciso di venirci alexi mi ha strappato ai miei pensieri ci saranno tutti rose persino riuscita a convincere late ci divertiremo ancora non lo so sono indecisa ma perché sono impegnatissima tra la lezione il così bir non ho tempo neanche per respirare figurati per prepararmi per una festa da ballo bisognerà pure che tu faccia una pausa ogni tanto certo ma non ho voglia di accumulare più ritardo di quanto ne abbia già inoltre ci sono due problemi principali e cioè prima di tutto non ho niente da mettermi mi serve una tenuta e poi non so ballare senti per la tenuta un sacco di vestiti nel tuo armadio hai solo l'imbarazzo della scelta sì ma vorrei una tenuta adatta all'occasione d'altra parte non so neanche che tipo di balli ci saranno non vedo perché dovrebbe essere un problema possiamo creare un look adatto a tutte le situazioni ma non voglia di sembrare ridicola non lo sarai te l'assicuro farò di te la ragazza più raffinata della serata visto l'entusiasmo di alexi vale la pena lasciare che se ne occupi cominciamo con l'abito ci orientiamo su quale stile allora vorrei qualcosa di comodo e sexy nello stesso tempo aspetta un attimo torno subito ho già trovato quello che ti ci vuole cosa ma come è uscito dalla mia stanza veloce come un fulmine mi ha lasciato lì ad aspettarlo per almeno un quarto d'ora l'altro giorno ho visto questo vestito in una boutique e mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo non ho potuto resistere a prenderlo per te ok primo pezzo della tenuta vediamo un po' oh carino è praticamente un tubino oddio di che colore lo prendo ok alla fine ho deciso di prenderlo in bianco perché lo trovo molto carino grazie alexi non dovevi ti sarà costata una fortuna non lo merito tranquilla mi fa piacere devo solo darmi da fare per trovare altri capi da abbinare col vestito così da creare una tenuta adatta a tutte le circostanze mi sembra piuttosto difficile come missione no? sì ma non c'è niente di impossibile per la gente fashion alexi ho inarcato un soprazziglio insomma non parliamone più cosa hai detto che era il tuo secondo problema? non so ballare se è solo questo Morgan potrebbe darti qualche lezione di ballo ce la cava benissimo no lascia perdere non mi va di disturbarlo gli farà piacere e vi darò l'occasione di conoscervi meglio se sei sicuro che non è un disturbo per lui? certissimo prima cominciamo e prima sarei pronta detto fatto ho tirato fuori il cellulare e chiamato Morgan riesco a sentire quello che si dicono che ne pensi? sarà un piacere aiutare Cherry Lynn adesso sono libero se ha voglia di passare da me altrimenti può mettersi d'accordo con il mio amico Stefano è un bravissimo insegnante di danza tiene corsi per VIP ok ne parlo con lei grazie ha messo giù tutto a posto puoi andare subito da lui siete così carini tutti e due ok vado perfetto è in camera mia e vabbè andiamo allora nei prossimi giorni basta che vieni direttamente lì e ci sarà anche Ian? no ho molto da fare in questo momento non lo si vede più ok wow che bella la loro stanza finalmente la vediamo voglio subito rassicurarti i primi allenamenti sono i più difficili ma quando inizierai ad appropriarti un po' di più dei passi di danza e del ritmo della musica vedrai che sarà tutto più semplice te lo garantisco dopo quelle parole Morgan mi ha teso la mano per invitarmi a ballare ok voglio proprio vedere come sarà questa cosa esercitati con Morgan nei passi del balzer ok va bene mini gioco con il mouse clicca nel punto indicato poi segui il cerchio riproducendo la forma dello schermo basati sulla musica per trovare il ritmo giusto nota bene un consiglio gioca a questo mini gioco servendoti di un mouse e alza il volume ok io indosso le cuffiette quindi penso che sia a posto così speriamo non sia troppo difficile e giochiamo perché sono curiosa a sto punto vediamo un po' oh ok la musica non è male oddio allora eh? aspettate no un attimo ok non è tanto oddio va bene no ok poi perché ci sono tutte ste faccine no non mi girano non mi girano ma perché me l'hai data per buona non lo so vabbè non ho capito tanto bene ste faccine che sono un po' verdi un po' azzurre un po' non ci siamo no no accidenti non ce l'ho fatta no ma uffa e adesso bisogna sentire due ore ma non è troppo complicato ste vento non ce lo farò mai sono ore che io ed Alexi studiamo e confesso che comincio ad avere mal di testa ma per una volta sembra così concentrato che non oso smettere ok va bene così io mollo non riesco più a memorizzare niente davvero? già sono fuso ho bisogno di muovermi di distrarmi di rilassarmi io comunque ho ben studiato e tu? può andare ma penso che continuare non servirebbe a niente potremmo approfittarne per guardare una serie o un film hai ragione che cosa ti va di guardare? un film che ha un rapporto con l'arte al punto in cui siamo tanto vale unire l'utile al direttevole parlo per te ma sì perché no hai un'idea? Pollock di Ed Harris e di cosa parla? è un biopic sulla vita di Jackson Pollock un pittore astratto molto famoso oh ma è un vecchio film gli anni 2000 può andare? perché no? abbiamo guardato insieme Pollock il film era davvero interessante anche se penso che molti episodi siano romanzati come sempre nei biopic ho visto che Alexi continuava a sbadigliare è vero che le scene dove si vede l'artista dipingere possono sembrare poco eccitanti io le trovo appassionanti sono affascinata dalla messa in scena e dalla prestazione di Ed Harris nel ruolo del pittore il modo in cui recita è preciso e studiato nei minimi dettagli come un quadro di Jackson Pollock Morgan è arrivato esattamente nel momento in cui il film finiva con un pacchetto in mano sono andato a prenderlo sei un amore che cosa? il mio regalo? eh per te un gioiello per il corpo se balli il tango la salsa sarà estremamente sexy oh bene un gioiello vediamo eh sa ok alla fine l'ho preso di questo colore perché non mi entusiasma particolarmente quindi non penso lo indosserò mai però mi sono messa il gioiello e ho iniziato a muovermi si sente un discreto tintinnino ad ogni movimento che faccio è davvero interessante faccio i campanelli tipo grazie Alexi pronta per la sessione? eh cominciamo sta sessione oggi che si balla la salsa mmm benissimo io la vedo male ok la musica è carina vediamo un po' no sì sì no no oddio no ok no che è sta velocità che cos'è supersonico ma siete matti ma sono matti i creatori del gioco ma come faccio a far no ok no no vabbè raga ma io non finirò mai no ma vabbè ciao ci rinuncio mi sono stufata andate a quel paese a creatori ma che è ma dai sono arrabbiatissima questo potrebbe essere il primo evento che non riesco a terminare mannaggia mi sono portata avanti bene nell'analisi dell'opera per oggi basta così a noi continuiamo a studiare ok chissà se Morgan è disponibile mi piacerebbe imparare qualche passo di danza potrei mandare un sms ad Alexi ma sì è qui potresti farmi un favore per piacere cosa vorrà chiedermi ho risposto sì cosa puoi portarci dei dolcini sto morendo di fame vuoi qualcosa in particolare dei croissant al cioccolato vuoi dire dei cornetti al cioccolato vabbè croissant cornetti la stessa cosa non iniziamo un dibattito su questo argomento signorina Cerreline ah ah va bene a tra poco prima di andare da Alexi e Morgan mi sono fermata in una panetteria carinissima che si trova accanto al Cosy Beer ho preso un assortimento di pasta a 10 dollari anche se non ci sono solo cornetti al cioccolato spero che andrà bene lo stesso per Alexi ma sì tanto lui mangia di tutto andrà benissimo dopo aver comprato le paste sono passata al Cosy Beer per chiedere il mio planning a Clementina che mi ha salutata a malapena quindi anche negli eventi Clementina è no non me la prendo è attaccata al telefono e si sta occupando di tutti i preparativi per la serata già perché la festa era organizzata qui quindi bene è meglio che mi sbrighi Alexi mi sta aspettando ah non abbiamo parlato con Clementina meglio così finalmente ce n'hai messo di tempo sì mi sono fermata al Cosy Beer per prendere il mio orario scusa ah mi sono dimenticato di chiedertelo come mai non lavori la sera del ballo Clementina voleva assolutamente un servizio ineccepibile svolto da persone esperte come se io non valessi niente mi sono lasciata cadere su una sedia dopo aver dato il sacchetto dei dolci a Morgan che mi ha ringraziata e ha subito assaggiato una brioche all'uvetta buona mi sta venendo improvvisamente fame a me ma no se davvero tu non valessi niente Clementina ti avrebbe buttata fuori già da un pezzo vuole solo che la serata sia perfetta bisogna riconoscere che è un bel evento hai razione non devo lasciarmi abbattere e poi la prossima volta che sarò di servizio le farò vedere io di cosa sono capace ah se la cosa può tirarti su guarda le scarpe che ho trovato ad abbinare al tuo vestito sono semplici ma stanno bene con tutto oggi scarpe vedemos le scarpe Night Fever oh vabbè ok molto carine ci sono tanti bei colori per il momento ho scelto queste ma poi tanto a fine evento comprerò le cose di altri colori quindi Alexi sono magnifiche e con il vestito sono davvero sexy le adoro esattamente il mio numero le ho subito messe Morgan mi ha teso la mano oddio se facessimo una prova e per poter ballare bisogna che non ci facciamo male ai piedi comincia la sessione no non sono pronta ma spero che questa volta andrà meglio vediamo un po' già iniziamo male perfettissimo ok questa è andata questa è andata questa è andata andiamo avanti si gira gira ti prego gira 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 ok dai forse sto migliorando forse o forse no va bene anche così oddio no l'altra volta mi sono impallata se ce l'ho fatta ce l'ho fatta e vai ok anche questa anche questa è andata no dai mannaggia non l'ho preso com'è ce l'ho fatta ditemi di si si ce l'ho fatta ok meno male almeno un punto ancora un'ora e dopo avrò il resto della serata libera coraggio Sherry Lynn oggi abbiamo iniziato al bar con Clementina abbiamo parlato della serata e del tipo di balli che aveva scelto perché lo vuoi sapere tanto quel giorno non lavori e beh ecco appunto penso di venire alla serata quindi mi piacerebbe sapere in quali balli devo esercitarmi non ho ancora deciso a dire la verità del resto devo ancora confermare gli spartiti dell'orchestra per la serata ah è indecisa tra cosa e cosa io con lei mi preoccupo quanto sei curiosa ops credo di averla un po' contrariata ero indecisa tra balli da salsa e qualcosa di più vivace come la musica country sì la country va benissimo mi immagino già la gente con il cappello da cowboy magari potrei far venire uno o due cavalli non li metti cavalli clementi misericordia no questo tipo di ballo non lo conosco affatto devo cercare di convincere clementina che l'altra idea è la migliore clementina pensa di riorganizzare la sala no perché non c'è spazio ma che vuoi dire e beh ecco gli rd non corrispondono esattamente ad un'atmosfera western con i tavoli messi così non ce la vedo proprio la gente a ballare la country ooooh secondo me sarebbero più adatti dei balli più classici e lei che ne pensa è vero hai ragione gli rd non si accordano proprio con le tenute country e poi il rumore potrebbe far paura ai cavalli allora ok per i balli da sala sono subito andata ad alexia a riferirgli la buona notizia tu la sei sbrigata alla grande così almeno tu non ti sei esercitata per niente e io non ho perso il mio tempo ad andare in giro per negozi a proposito visto che ne parliamo ho trovato una giacca ne ho parlato con rosa che è totalmente d'accordo con me per il principio che intendi per il principio diciamo che fa un po' pugni con il vestito e non sei obbligata ad indossarla ma se mettono del rock è perfetta ok fammela vedere lo amo vediamo oh adoro in effetti si è uno stile molto rock a me gusta e questo qui è il colore che ho scelto per il momento adesso arriva la parte difficile è una giacca di pelle ho provato ad immaginarmela abbinata al vestito e dalle scarpe che ho già e non ci sta per niente però vabbè alexi ha ragione con gli accessori giusti avrò un look sexy e comodo esattamente quello che volevo sei bravissimo alexi ma ti sarà costata una fortuna non proprio l'ho trovata in una vecchia cassa di mia madre non le dà fastidio che la prenda io no sono anni che non la metto più ringraziala da parte mia va bene morgan mi ha teso la mano per iniziare la sessione di oggi oddio ci siamo comincia la sessione oggi che si è balla la salsa di nuovo questo è il ballo che odio di più perché è quello più difficile andrà malissimo già lo so è troppo veloce questa salsa ok dai dai cerco di essere un po' più attiva già vabbè sì ciao a tutti va bene è stato bello vai dai 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 ok non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio non ce la faccio tutti no tutti no ok verde verde ok no sì no no sì sì ok gli ultimi due vanno bene che è successo me lo date il punto sì yes arrivata in camera sento le voci di Alexi e Morgan ma lascia fare a me non ancora di che parlano dai altrimenti faccio apposta a camminarti sui piedi provaci solo dai si direbbe che si divertono che sta succedendo qui è perché non ho capito ah cherry Lynn aspettandoti ho chiesto a Morgan di farmi vedere qualche passo di danza ah ballavano insieme ma lui prende le cose sul serio e non vuole lasciarmi guidare allora cerco di farlo cedere te l'ho già detto se vuoi imparare lascia prima fare a me ma anch'io dovrò pure imparare a guidare il ballo no ma se non sei neanche capace di seguire non fa una piega cosa vuoi replicare a questo ah ma dai su cherry Lynn diglielo tu la situazione sembra davvero divertirli perché non guidare una volta per uno così insomma va accontentato un po' tutte e due potrebbe essere un'idea ah visto ma faresti meglio ad ascoltare quello che ti dico ma certo sono un allievo studioso io allora facciamo così ok accordo concluso a proposito cherry Lynn ho trovato un altro elemento gli orecchi che gli orecchini sono delle padelle ok non mi fanno impazzire gli orecchini ve lo dico potevano fare una forma un po' più carina secondo me boh vabbè li ho presi così ma non mi fa impazzire proprio per niente ma va bene ah questa pariurre è stupenda gli orecchini mi piacciono molto si abbinano bene alle scarpe e al gioiello per il corpo grazie mille in realtà io non ho abbinato proprio niente però va bene sono io che ti ringrazio mi diverto tantissimo a cercare tutto quello di cui hai bisogno esco a prendere un caffè venite con me ma non balliamo oggi no non muoverti offro io te lo prendo come al solito io invece ho chiesto una soccolata calda poi Morgana mi ha suggerito che aspettando Alexi potevamo cominciare ad esercitarci e oggi che si fa i passi del quick step già so preoccupata un po' vai ok oddio va bene ok allora la musica è molto carina e non sembra neanche difficile devo dire ci sto prendendo piano piano la mano infatti finora non ho fatto neanche un rosso evviva ok basta seguire no vabbè questo è facilissimo grande è la salsa quello più complicato secondo me avrò problemi yes ce l'ho fatta yes ok andiamo avanti oh no ho appuntamento con Morgan per un'altra sessione di danza e sono in ritardo sono arrivata in camera sua tutta sudata e ansimante scusa per il ritardo non importa non ti preoccupare cominciamo sì poso la borsa e il cellulare ho rovistato nella tasca dei pantaloncini per tirar fuori il cellulare ma non c'è l'avrò dimenticato in camera ma potrei anche averlo perso scusami devo tornare in camera mia credo di aver perso il cellulare panico vuoi che ti aiuti a cercarlo no vado prima a controllare se per caso non l'ho semplicemente dimenticato in camera torno subito non ci sono problemi ti aspetto ho fatto più in fretta che potevo per andare in camera mia ma non l'ho trovato ti pareva devo assolutamente ritrovare il cellulare non ho i mezzi di comprarne un altro cerca il tuo cellulare l'avrei dimenticato in una pagina del sito che bello in effetti la caccia al tesoro mancava in questo evento e ci sta quindi dobbiamo andare un po' in giro è questo? no non è questo dove vado? qui non c'è niente qui nemmeno dove vado? dove sto? uh uh visto? recuperato ok complimenti torno all'evento d'accordo eccolo qui l'ho trovato e non ci ho messo neanche tanto ahi ho una decina di chiamate in assenza di Alexi e una quindicina di sms Morgan mi ha detto che hai perso il cellulare non l'hai ancora ritrovato? ah ah come non detto dimentica il mio precedente sms allora l'hai ritrovato? provo a chiamarti per vedere se qualcuno risponde se per caso vedi che ci sono state centomila chiamate sono io gli rispondo tutto ok ce l'ho io amo Alexi dal profondo del mio corazón meno male grande mi sono sbrigata ad andare a ritrovare Alexi nella camera di Jan va meglio? sei più tranquilla adesso? sì scusa se me ne sono andata così di corsa però ero imparicata per rimediare lo spavento guarda questo e vediamolo allora la gonna wow ok e questo è l'ultimo elemento perché mi sa che conclude tutto il vestito e ovviamente è meglio che lo prenda in bianco per fare il coordinato bellino ed eccolo qui ok oh la parrucca sì non vedevo l'ora di sbloccarla e ovviamente la prendo del colore dei miei capelli quindi di questo bel rosa bella questa parrucca mi piace dolcino dolcino vieni qui ok vinto bracciale da fata bellino mi piace ah ma cos'è esattamente non lo so cioè non so se ha un nome consideralo una specie di estensione dell'abito vabbè una specie di gonna no che posso attaccare e staccare a mio piacimento se devi ballare il waltzer per esempio puoi metterlo sopra il vestito corto e la tenuta sarà perfetta è davvero un trucco formidabile dove l'hai trovato è rosa che te lo manda ah quella ragazza in questo momento non ha tempo di vederci a causa degli esami quindi l'ha creato per farsi perdonare non devo dimenticare di ringraziarla la prossima volta che la vedo ok pronta per le nostre ultime lezioni più che mai perché sono migliorata nel mentre rock che è quello che preferisco perché sono i passi del ballo con Castiel ma sono davvero difficili quindi ok la musica è molto carina adesso mi concentro e vabbè già ok ho detto che avevo fatto dei progressi ok dai va bene se good very good piano piano se vai vedete che sono diventata bra come non ma non è malattata boh vabbè io a volte se gioco non lo capisco no vabbè ciao ok questo sì va bene ce la sto facendo sì yes ok ed eccoci arrivati alla parte finale dell'evento perché ho finalmente ottenuto tutti i punti con i vari personaggi tra l'altro vedete che la dolcetta è diversa non è più c'è 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 l'in bensì caris perché nell'altro account non ce l'ho fatta non ce l'ho fatta invece per fortuna in questo account sì quindi riesco ad ottenere tutte le illustrazioni mentre nell'altro ho preso solo quella con Ryan mannaggia tutte le altre mi mancano allora direi di cominciare con l'appuntamento con il personaggio che preferisco maggiormente quindi facciamo prima il preferito e poi insomma quello che c'è al primo posto al secondo posto al terzo posto per quanto riguarda la mia classifica di preferenze direi di vederli in questo modo il mio preferito ovviamente tra loro chi vuole essere se non se non secondo voi il bel rocchettaro è ovvio che Castiel è il mio preferito in assoluto cioè lui è al primo posto della mia classifica quindi voglio andare all'appuntamento con lui e vedere come si svolgerà questa fantastica serata di ballo cominciamo è la sera della festa mi sono vestita e truccata di conseguenza sono un po' nervosa all'idea di rivedere Castiel e mi chiedo che cosa balleremo insieme il roc spero che le lezioni daranno i suoi frutti speriamo ci manca solo che sbaglio tutti i passi proprio alla fine oh che meraviglia ma è bellissimo oh ed eccolo qui bello come il sole ma non poteva vestirsi in un altro modo comunque il così birra è fantastico così secondo me dovrebbero lasciarlo sempre in questo modo wow sei davvero uno schianto con questa tenuta grazie e tu dov'è la tua vabbè tu puoi presentarti anche così non c'è problema in realtà però ce l'ho in borsa esco adesso dalla sala prove mi cambio e andiamo a ballare Castiel è andato a cambiarsi i battiti del mio cuore accelerano sempre di più all'idea di ballare con lui mi ricorda il liceo il ballo che abbiamo fatto a scuola siamo stati davvero fortunati l'orchestra è iniziato con un rock dal ritmo indiavolato proprio come lui il diablo vabbè ok non ci ho fatto a cassa la giacca che mi ha regalato Alexi è perfetta per ballarlo ma andiamo a ballare va Castiel è arrivato alle mie spalle chissà che tenuta ha scelto sì lo voglio vedere pronta per ballare balla incrociamo le dita e speriamo bene ok spero di non sbagliare i passi buono buono vai vai oddio no vabbè sapevo che mi impallavo però me l'ha data buona vabbè non importa ok yes vai dai oddio ti pareva va bene anche così vai no no vabbè ok quando sbaglio gli pesto i piedi tipo che succede no no ne sto sbagliando tutta ma è più lungo delle prove quanto dura ok dai ce la posso fare ce la posso fare mi sento che ce la faccio ma vabbè ma è più complicato delle prove con Morgan raga oddio vabbè ma se sbaglio l'illustrazione me la danno comunque ditemi di sì va bene va bene ok quando finisce ok questo no vabbè il triangolo il triangolo no sì è finito ce l'ho fatta quando la sua mano mi ha afferrato con forza con forza il bacino l'ho avvicinato al suo mi gusta mi divora la bocca con lo sguardo tra un movimento e l'altro e non riesco più a controllare i battiti del mio cuore che mi impazza nel petto quando poi ho sentito la sua mano scendere piano sul mio sedere ho iniziato ad arrossire Cassir ci sta toccando il sedere mentre balliamo ma io lo voglio vedere ma perché i nostri corpi si parlano con una sensualità ed una passione tale che mi sembra di svenire oh my god questa è l'illustrazione che bella e ammazza quante gnocca la dolcetta ma la guardate quant'è sexy comunque non è la tenuta che ho scelto io vabbè meglio così l'hanno abbinata meglio i creatori no vabbè bellissima guardate Cassielle quanto è bello cioè wow ma lui sta bene con tutto però così cioè che coppia bellissima guardate lì allora questa illustrazione la adoro guardate il modo in cui si guardano intensamente negli occhi bellissima cioè fatemi sapere cosa ne pensate ma secondo me è fantastica veramente top dove ci porterà questa serata e io lo so bene dove porterà questa serata in camera di qualcuno complimenti il tuo ballo con Cassielle è stato un successo applausi grazie grazie modestamente allora passiamo al prossimo che ovviamente è Nathaniel e con lui dobbiamo ballare un meraviglioso tango il tango della passione non vedo l'ora sono pronta per la serata Nathaniel è venuto a prendermi in camera allora pronta per ballare certo e tu hai intenzione di andarci con questa tenuta spero proprio di no no posso cambiarmi qui sì come vuoi oddio si cambia in camera nostra Nathaniel è entrato in camera e ha cominciato a svestirsi non ho potuto fare a meno di dare un'occhiata cioè si sta spogliando davanti di noi praticamente vabbè ok l'abbiamo già visto nudo in realtà va bene anche così no problem è tutto muscoli si vede che fa molta box ha dei marchi sulla schiena ma è quello che lo rende dannatamente sexy voglio vederlo perché non ce lo fate vedere siamo andati al così bir il mio cuore comincia a battere all'impazzata l'idea di ballare con lui Nathaniel è andato a prenderci qualcosa da bere in quel preciso momento una musica di tango è iniziata a suonare nella sala le bevande possono aspettare questa musica mi sembra perfetta balli e ballamos allora ok andamos a bailar ed eccoci allora devo dire che la musica del tango mi piace tantissimo speriamo anche qui di farcela ma dovrebbe essere più facile almeno spero e spero anche di non tirarmela sinceramente con questa cosa che ho detto magari ho detto che è facile e poi sbaglio tutte no dai sono in buono bene ok gira gira di qua gira così ecco vabbè perfetto dai non ce la faccio mi ho sbagliato una sola questa è un po' più complicata infatti non me la attacca questa pure va bene no me la attacca no vabbè l'ho perso non ce l'ho fatta ok a me mi parte il mouse non so non riesco a prendere poi le balle dai nata rallenta natalia ti prego non andare troppo veloce ok dai adesso io mi vado dal colore lo giriamo così sì grazie 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 modestamente siamo stati bravissimi lo so le sue mani percorrono il mio corpo al ritmo della musica le sue carezze benché esse siano calcolate e studiate mi danno l'impressione di seguire una strada tutta loro sulla mia pelle è un contatto che mi elettrizza e mi riempie di brividi uno dei quali è salito fino alla mia nuca nel momento in cui la sua mano si è messa a scivolare lungo la mia coscia con una sensualità che mi fa divampare dal desiderio lui è di un sexy ragazza che ce ne sono pochi così come Nat ok lui è Castielle proprio i nostri corpi intrecciati sembrano non poter più fare a meno l'uno dell'altro mi sento irrimediabilmente attirata da Nathaniel ma poi è il tango wow ok che illustrazione dico è il tango anche che è un ballo molto sensuale a me piace tantissimo no vabbè ragazzi i dettagli delle gambe cioè e i nostri visi così vicini cioè guardate lì quant'è sexy mamma mia cioè guardate cioè proprio dovete ammirare tutti i dettagli perché sono spettacolari e lo sguardo cioè la dolcetta è completamente innamorata persa guardate lì come lo sta a fissare e lui no vabbè raga adoro adoro anche questa illustrazione la trovo bellissima bravi creatori bravi wow fin dove ci condurrà questo ballo anche qui in camera da letto va bene anche con lui complimenti il tuo ballo con Nathaniel è stato un successo ma non avevo dubbi non è vero allora terzo posto io sceglierei Yan il bel coreano vediamo l'appuntamento con lui come sarà allora non sei ancora pronta sì sì spero che Yan mi troverà carina io ti trovo bellissima così al posto di Yan sarei incantato di passare la serata con te grazie Morgan troppo gentile ehi attenzione di questo passo finirò per essere geloso della mia migliore amica mi sono diretta al così bir con i ragazzi per incontrare Yan oh Keris sei davvero molto carina stasera sono imbarazzato che tu mi veda vestito così e appunto perché sei vestito così grazie ma tu ti cambi vero mica vorrei ballare in questo modo con me ho appena finito il mio turno mi lasci un momento per cambiarmi Yan è andato a cambiarsi il mio cuore batte sempre più forte all'idea di ballare con lui io sono curiosa è tornato pochi minuti dopo abbiamo parlato un po' fino al momento in cui abbiamo sentito un brano di Quick Step Yan si è precipitato sulla pista Keris vieni a ballare ti sto aspettando arrivo speriamo di farci anche qui vai ok no vabbè il Quick Step io penso che sia abbastanza facile non ho mai avuto grossi problemi con il Quick Step quindi dovrebbe andare abbastanza bene infatti come potete vedere è finora tutto a posto ok no vabbè questo dai non è complicato quindi va benissimo va benissimo oh questo ha la grande no stavo per dire neanche un rosso mannaggia vedete me la tiro pure col pensiero me la tiro ecco sono due e sono tre basta mi prego cos'è ma perché si sta velocizzando così che è successo all'improvviso ma insomma no no sta andando malissimo ma come ma ancora basta quant'è dura sta musica fermatela abbiamo finito oh grazie a te l'abbiamo finito perché stava andando maluccio alla fine vabbè però dai ce l'abbiamo fatta anche qui ok questa musica ha un ritmo così vivace e travolgente non posso fare a meno di sorridere mi diverto davvero un sacco con Yan il mio cuore batte a cento all'ora trascinato dalla gioia che proviamo entrambi ma anche a causa di un sentimento molto più profondo nei confronti di Yan qualcosa di più caldo di più eccitante mi lascia guidare dal suo sguardo ipnotico i nostri corpi sono in perfetta armonia ho l'impressione che prevede ogni mio minimo movimento anticipandolo e c'è l'illustrazione sì dai vediamo vediamo ed eccola wow è carina però secondo me non lo so potevano disegnarla diversamente soprattutto l'espressione di Yan però la dolcetta è molto bella mi piace come è rappresentata lei un po' meno Yan purtroppo non lo so secondo me potevano farlo meglio però è bella anche questa illustrazione dai non dimenticherò mai questa serata complimenti il tuo ballo con Yan è stato un successo ok torniamo all'evento perché mancano gli ultimi due e a questo punto io scelgo di fare Ryan il nostro bel professore sexy quindi vediamo un po' con Ryan quello che accadrà e soprattutto l'illustrazione come sarà sono agitata tra poco starò ballando tra le braccia di Ryan e nello stesso tempo sono terribilmente eccitata all'idea di passare un momento simile con lui siamo fortunati tutto il campus si è precipitato allo snake room per assistere al concerto gratuito di non so quale gruppo non avremmo certo rischiato di rendere noto il nostro segreto solo per un ballo ah quindi siamo una coppia in incognito ok e Shani mi ha detto che farà attenzione ci avverte se uno studente o un membro dell'università viene al bar non dovrebbero esserci problemi non senza una certa apprezzione mi sono diretta al così birre per incontrare Ryan scusa esco adesso da una conferenza mi cambio in un attimo e andiamo subito a ballare non c'è problema ti aspetto qui è tornato pochi minuti dopo comincia un waltzer Ryan si è avvicinato per invitarmi a ballare signorina mi concede questo ballo e balliamo allora con vero piacere messier ok va bene dai sto concentrata no ok per un attimo ho temuto di non farcela io ho praticamente lasciato quello più difficile per ultimo che è quello con pria no no non ce l'ho fatta prenderlo ok gira 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 vai no questi sono più facili ok sono quelli tutti che girano quelli difficili e quando aumenta la velocità ecco questo no gira 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 è tutto lì mi fallo per fortuna tutto bene uh penso che quello viola sia il massimo no che gira gira va sì finito ancora no e quanto dura non finisce più ok vai 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 finito l'ultimo yeah ce l'abbiamo fatta Ryan è così dolce con me sono avvolta dal suo calore qualcosa nel suo sguardo mi attira i suoi occhi esplorano i miei cosa cerca di leggere in me con lui mi sento come tra le braccia di un principe un principe misterioso e seducente ho voglia di scoprire cosa si nasconde dietro il sorriso che mi rivolge oh eccola qui cioè lei tipo lo guarda con gli occhi dell'amore lui più che 33 anni non so perché ma io gliene do tipo 45 46 in questa illustrazione qui non mi sembra tanto un 33enne ma va bene no veramente sembra più maturo del suo però è carina cioè è molto elegante non lo so vero lui sembra un principe vestito così carina Ryan cosa stai cercando di farmi capire stasera complimenti il tuo ballo con Ryan è stato un successo e adesso siamo arrivati all'ultimo perché manca Priya e con lei balleremo una bella salsa quindi andiamo a vedere Priya non dovrebbe tardare ad arrivare non siamo davanti al nostro vecchio liceo ci siamo dati appuntamento qui prima di andare al così birra ma qualche minuto di ritardo finalmente è arrivata scusandosi di non essere potuto ancora cambiarsi non si cambiava nessuno si cambiano tutti la puoi farlo al così birra non c'è problema sei un tesoro sono davvero impaziente di ballare con te cosa hai previsto per me dipende dalla musica ma ti posso assicurare che questa serata sarà indimenticabile ci siamo diretti al così birra Priya è andata a cambiarsi ho il cuore che batte sempre più forte all'idea di ballare con lei è tornata pochi minuti dopo nel momento in cui iniziavo una musica salsa e questo è tremendo questa musica è fantastica vieni a ballare con me che iris e vabbè arrivo spero di farcela perché per me la salsa è stata veramente quella più complicata da imparare ok si va let's go e vabbè ok da aspetta subito un negativo allora lo sapevo io lo sapevo lo sapevo non è che non lo sapevo ok devo essere più veloce con sto braccio non ce la faccio non ce la faccio oh lo sapevo che questo sarebbe stato il peggiore ma poi quanto dura non ce la faccio più ok sto rallentando bene l'ultimo ce l'ho fatta sono sfinita va bene dai priglia si muove con una fluidità e una sensualità che mi fa girare la testa sono completamente stregata dal suo sguardo penetrante che continua a fissarmi nonostante i passi di danza guida la nostra danza con fiducia e passione il modo in cui le sue mani sfiorano la mia pelle mi riempie di brividi lei è molto sensuale mentre i nostri corpi si muovono all'unisono mi perdono nei suoi occhi e in effetti pria ha degli occhi bellissimi vediamo l'illustrazione oh wow mamma mia ok no vabbè raga ma che illustrazione ma wow cioè fuoco questa illustrazione è fuoco puro cioè guardate lì le bocche come sono vicine i dettagli a me piace guardare tutti i dettagli che braccia muscolose che apriglia non c'evo mai fatto caso cioè guardate la sinuosità del corpo e che bello che è il vestito che indossa no adoro è molto sensuale questa illustrazione mi piace tanto ed è fatta benissimo questa serata vorrei che non finisse mai complimenti il tuo ballo compri è stato un successo torna all'evento ok abbiamo praticamente finito questo evento della musica congratulazioni questa festa da ballo è stata davvero un successo le tenute nei loro diversi colori restano a disposizione nella boutique speciale fino alla fine dell'evento approfittane e infatti io ne approfitterò e comprerò alcuni pezzi di colore differente questa è la tenuta che ho fatto appunto con quest'account e ok ma passiamo alle illustrazioni che ho amato ho amato alla follia questo evento mi è piaciuto tantissimo anche se all'inizio pensavo fosse un po' troppo difficile ma per le illustrazioni che hanno creato ce ne è valsa totalmente la pena questa è la mia preferita in assoluto quindi per me come illustrazione più bella al primo posto metto ovviamente quella con Castiel ma voi sapete il perché al secondo posto c'è questa con Nataniel e anche qui sapete il perché perché è il mio secondo ragazzo preferito e poi la trovo davvero bellissima al terzo posto c'è lei quella con Priya è quella che mi è piaciuta di più rispetto alle ultime due è davvero tanto sensuale poi al quarto posto scelgo lui Ryan perché la trovo molto principesca come illustrazione e all'ultimo posto purtroppo ci sei tu mi dispiace ma secondo me non lo so qui c'è qualcosa che non mi ha convinto del tutto questa quindi è la classifica delle mie illustrazioni preferite e spero che giù mi farete sapere nei commenti invece qual è la vostra classifica delle illustrazioni preferite insomma fatemi sapere quale vi sono piaciute di più tra queste cinque sono tanto contenta di essere riuscita a fare questo evento mi è piaciuto tanto adesso comprerò insomma qualcosa per quanto riguarda le tenute io aspetto di leggere giù i vostri commenti spero che abbiate apprezzato questo video e se è così vi invito a mettere un bel like se non siete iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete i prossimi giochi e noi ci vediamo in un prossimo video ciao